Il nuovo campione italiano Long Distance di Orienteering, oggi a Bellamonte. Bella gara, bella organizzazione, bel posto proprio. Però la gareta è andata per me abbastanza bene, tosta, lunga. Ho fatto purtroppo qualche errore alla fine gara. Comunque sono contento. Per te è un primo storico titolo italiano. Hai vinto tanti altri titoli sulle altre distanze. Oggi anche al tuo palmarès aggiungiamo la lunga distanza. Qual è stato il segreto di questo successo e dove hai capito che potevi vincere? Quando già dopo due terzi di gara ho visto i miei rivali che hanno partito prima di me, e Klaus e Alessio e ho già capito che potevo vincere tranquillamente. E volevo prendere loro. Ho fatto un po' di più gas, diciamo, un po' di... Sì, è andato un po' più veloce e cominciavo a sbagliarmi. Ho sbagliato abbastanza tante sulle ultime 3-4 punti, però con un po' di fortuna è arrivato comunque con 20-30 secondi prima di Klaus e sono contentissimo. Ecco, Michael Mamrev è un campione completo, non solo rientiering, ma anche una stagione trionfale anche nelle Sky Race. Sì, quest'anno ho vinto il campionato italiano di Sky Race, sono molto molto contento e il prossimo fine settimana mi aspetta l'ultima prima di Mondiale. Per adesso sono secondo e spero di rimanere in top 3 dopo la stagione. Sei partita per prima e hai cambiato per prima? Sì, ho fatto una gara regolare, ho sbagliato poco o niente. Era fisica, quello sì, ho sentito la fatica, però è andata bene. Ecco, Claudia, invece tu sei stata superata dalla polisportiva besanese, però sei riuscita a non perdere la calma. Sì, all'inizio ho fatto qualche errore di troppo e poi gara regolare verso la fine. Nicole, tu sei reduce dai campionati mondiali dove hai gareggiato con onore con i colleghi dell'Italia. Oggi hai trascinato la tua squadra in una rimonta emozionantissima. Sì, dai. Sono contenta che abbiamo vinto ancora il titolo italiano dopo l'anno scorso che siamo arrivati a seconda. Io ho fatto una gara abbastanza pulita e è andato tutto bene. Ecco, il primiero che è la patria dell'Orientini, qual è il segreto del vostro successo? Beh, abbiamo una società che ci aiuta. Già da quando siamo piccoli cresciamo insieme e è stimolante. Ok. Emiliano Corona, Danny Pagliari e Alessio Tenani sono i nuovi campioni italiani della staffetta che si è disputata oggi a Bellamonte. Sì, una grandissima soddisfazione. Ci avevamo già provato l'anno scorso, non è andata benissimo. Quest'anno, durante tutto l'anno, abbiamo dimostrato di essere sempre nella top qui in Italia. Quindi ci siamo comportati molto bene. Oggi la compattezza del gruppo si è vista. Io sono felicissimo. Il mio primo titolo staffetta nella categoria Elite. Quindi strafelice proprio. Felicissimo. Ecco, Daniele, a te una delicata seconda frazione. Sei riuscito però a mantenere un'ottima posizione. Sì, c'è stata molta attesa qua al cambio. I tempi del secondo giro erano risultati un po' più alti. Abbiamo mantenuto la calma e siamo partiti convinti di poter fare bene. Ho fatto una buona frazione con piccole sbavature, però sapevo di aver fatto una frazione solida. Avevo la piena fiducia dei compagni, delle loro possibilità. È un grande alesso che avrebbe lanciato l'ultima dopo le sue recente prestazioni mondiali. È una garanzia. Ecco, Alessio Tenani è stato l'eroe dell'Italia ai campionati mondiali in Francia. Hai finalizzato nel migliore dei modi il lavoro dei tuoi compagni. Sì, io diciamo che ho avuto un anno eccezionale e oggi ho dato tutto perché era una di queste ultime gare dell'anno. Partivo in testa praticamente insieme agli altri e diciamo che non mi sono voltato mai. Ho fatto la mia gara. Alla fine è stato ottimo per poter vincere. Qual è stato il momento in cui avete capito che oramai avevate battuto i padroni di casa di premiero? Sinceramente noi in gara non è che ci siamo visti tanto, quindi ho fatto una gara praticamente individuale. Ho cercato di fare il mio meglio.